Benvenuti su fisioterapierubiero.com, portale di medicina e benessere. Lo stretto toracico si può valutare con diversi test, tra cui il test di rosse o manovra di rosse. Per effettuare questo test si chiede al paziente di sedere, di mettere le braccia a candelabra, quindi spalla e gomito piegate circa un angolo retto, e in questa posizione dovrebbe fare ciò ciò con le mani per 2-3 minuti. Il test è positivo se il paziente non riesce a mantenere la posizione per questo periodo di tempo oppure si sente molto dolore e molto formicolio alle braccia.